Buongiorno a tutti, oggi è 200 anni della nascita di Pellegrino Artusi, lo ricordiamo come Neurotoc, io col consiglio direttivo, tutti i miei associati, oltre 350 in Italia e quasi 3000 in Europa, come un personaggio di rilievo assoluto nella cucina italiana, uno dei più grandi, dei primi che è riuscito a codificare e a creare in questo bellissimo libro, un po' questo insieme di ricette che poi sono diventate un po' la base sulla quale è stata costruita la nostra grande cucina in Italia e nel mondo, quindi un ricordo particolare a questo personaggio di valore straordinario e alla sua terra dove è nato, l'Emilia Romagna, questa bellissima terra e in particolare a queste grandi ricette che poi ci hanno fatto diventare famosi e conoscere in tutto il mondo.